Benvenuto al quinto live settimanale della progettazione del monumento alla pace della Davida. Mi sono scritto qui il nome di Stefano Mallorca perché è la prima volta che conosco le persone e tendo a non memorizzare dei nomi. Non lo sono scritto perché è l'ultimo personaggio che ho incontrato grazie alla linea Border Night, Carpeoro, Michele Proclamato, Franceschetti, via discorrendo eccetera, che ha fatto un intervento radiofonico per cui esperienza praticamente radiofonica, una delle più belle, mentre tu ascolti puoi anche fare altre cose, che parlava dell'alchimia sessuale. L'ho trovato molto interessante perché è veramente il calcio sui maccheroni, per il progetto il monumento alla pace che io sto realizzando. Perché a me fin dall'inizio è stato sempre chiaro, fino al 1986 ebbi questa chiarezza qui, no? In occasione del fatto di quando vinsi il premio per i videoamatori, lo scotch videotrophy con il piatto piange... per restare nel tema del Made in Italy, vi presentiamo le immagini dei video vincitori della terza edizione dello scotch videotrophy, il concorso nazionale per videoamatori promosso dalla 3M Italia insieme alla nostra rivista. La giuria presieduta dal regista Pupiavati e composta da Alberto Farassino, Maurizio Nichetti, Roberto Scaglia della 3M e da Carlo Danzi di Ciac Sigira, si è riunita il 4 dicembre a Milano e ha proclamato vincitore per la categoria videoassoggetto, ha assegnato il premio a Francesco Montelli per il piatto piange. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. A Milano fecero la premiazione eccetera e un giornalista mi chiese se avevo dei progetti futuri da fare dopo questo video qui, dice sì, il tema è porno sacro. Lui fece una faccia sorpresa, incuriosita. Questa cosa io la dissi un po' come battuta ma non tanto fin in fondo, no? Era più che altro un sogno difficilmente realizzabile. Invece questa è la, come dire, una delle tante scie o fili che accompagnano il monumento dedicato alla pace. Perché in questa realizzazione del monumento, no? Che una volta che sarà fatto, poi si capirà con la presentazione, adesso non entro nel merito. Una volta fatto che vi esiste eccetera, nel presentarlo io ho la necessità di realizzare più bella e che cattura l'attenzione nella maniera giusta, no? Nella maniera giusta. Quando hai il desiderio di comunicare una tua esperienza che è minimo sincera e comunque aperta a quella percezione di non volere presentarsi come unica e totalitaria che deve andare bene tutti i palazzi, tutti i gusti, no? È un'esperienza personale, ma il punto diviso in comune è sempre lo stesso, è Dio, no? È la stessa cosa di cui il proclamato sta facendo esperienza, che Giordano Bruno faceva esperienza da modo suo, che Carpeoro sicuramente, come lui, tante persone come me, tante persone che neanche sono conosciute in questo momento hanno la loro esperienza individuale del loro Dio interiore. E nella mia esperienza che manifesto, passare attraverso il racconto di questi quattro film prevede il tema dell'Eros, no? Perché ovviamente con i cazzi che si vedono in vetrine eccetera va da sé che io mi occupo di questo simbolismo, no? Che tra l'altro è una di quelle voci più ricercate in internet. In internet chi ha i click maggiori sono tutti i siti a fondo sessuale pornografico, no? Poi dopo si entra nella cosa di dire siamo repressi, è vero, siamo repressi, siamo incatenati, ci tengono a fare quello che non è nella nostra natura ma è l'interesse di qualcuno che come interesse non ha il mio benessere ma il suo a discapito della mia vita. Non ricordo più cosa stavo dicendo. Ah sì, la traccia dell'Eros, no? E questo alchimista Stefano Maiorca ha fatto un po' una, infatti è stato anche abbastanza chiaro, ha detto non voglio parlare di pornografia, di incentivare le persone a scopare, eccetera, voglio dare un racconto storico di come la società in varie culture nel mondo, nei tempi ha vissuto e sta vivendo tuttora l'alchimia sessuale, no? Perché noi viaggiamo su quelle cose lì. L'alchimia sessuale è il nostro compagno di viaggio dal primo respiro fino all'ultimo, no? Comunica attraverso quella sensazione di sensualità che non è solo un piacere fino a se stesso che può essere paragonato all'orgasmo, no? È un piacere cosciente. Quando tu sei in quel piacere particolare di quell'auto Eros che ha a che fare con te, cioè sei cosciente, non raggiungi come nell'organo quella cosa dove sei solo versi che con tutto il rispetto alla sacralità, no? Perché ci pensavo ieri, no? A questo fatto di noi esseri umani, eccetera così, che siamo un composto di due parti, la parte Yin e la parte Yang si dice in Oriente, no? Dalla parte spirituale e della parte materica si dice a livello occidentale o scientifico. animica o... non mi ricordo l'altro nome. Sono tutti nomi per descrivere una dualità che abbiamo dentro di noi. Jung diceva la nostra parte oscura non va combattuta, seppellita, ma va abbracciata, va accettata, no? E io ci pensavo, cos'è questa nostra parte oscura, no? Questa nostra parte che non vuol sapere della razionalità, no? Che si comporta seguendo altri canoni, no? E' quella parte di noi che in certi momenti ama arrivare in quel punto dove è semplicemente un verso che non dice una parola, che non comunica un concetto, ma è un verso che esprime un sentimento di godimento, di gioco, di essere lì, eccetera, no? E allora per non dilungarmi troppo, perché questo live è comunque nella parentesi dell'Eros, anche se poi dopo parlerò un attimino anche le altre persone. E sono contento perché in questa piccola carellata di questo video di Stefano Mallorca che ho rivisto due volte, ho avuto la conferma che tutte le, diciamo, le informazioni avute e le intuizioni avute messe insieme e mi hanno fatto un quadro dove le cose che lui diceva combaciano, combaciano. E non è che sento che è finita lì, sento e so, per fortuna, che questo è un tema nel quale io entrerò, sono già entrato e entrerò, dove io sono convinto che scoprirò, troverò la risposta che libera, in maniera soddisfacente per quello che è un essere umano che vive in questo mondo qui, ma non per fare quello che mi pare in quel senso di libertà, ma per poter sentire come un essere umano, libero da condizionamenti, fa quello che fa perché è in linea, è a piombo, è in coscienza con quello che è la sua esperienza che sta avvenendo in questo mondo qui. Per cui, credo che dicevo una cosa che volevo dire che adesso mi stavo sfuggendo. Ha parlato anche della prostituzione sacra, che nei templi, anticamente, la prostituzione era una cosa molto diffusa, accettata naturalmente, perché nei tempi c'era la prostituzione sacra e nei templi. A secondo delle divinità, la prostituta, l'incasso che faceva, veniva dato al tempio, eccetera. E la loro professione era una professione nobilitante, che ti inglobava nell'essere abbracciato alla divinità. Non eri fuori perché eri una peccatrice secondo una morale etica che è venuta su, così, all'ultimo momento, ma di cui nessuno chiede l'autorità reale per poter venire a condizionarti la vita. E così, insomma, è così. E sono convinto di trovare delle belle risposte. Sono, credo, fosse una mia condizione, sono convinto, credo che parlarne con Carpeoro mi darà delle indicazioni molto importanti. Se avrò la possibilità di farlo, adesso l'8 al 9 di luglio, dove finalmente lì posso venire, perché avrei voluto venire oggi a Bergamo, ma non me la sono sentita per varie ragioni. Non era probabilmente fosse il momento, no? Che mi sta a cuore, ma avverrà, se tutto va bene, l'8 al 9 di luglio. Prima di quell'incontro c'è un bellissimo viaggio che io andrò a fare insieme a Giuse Morando in Irlanda, a Belfast, il 23 di giugno, torniamo, credo che sia il 21, il 21, mercoledì. Premera Watt fa un tour in Inghilterra e io sono riuscito ad iscrivermi ad uno di questi eventi che vengono fatti pubblici, dove Premera Watt continua a propagare il suo messaggio di pace per le persone che possono essere interessate, no? A sentirne parlare di più e ascoltare se è buona per lei. Perché ci sono delle persone, io ho visto la mia esperienza da 25 anni, ci sono molte persone che sono avvicinate alla conoscenza e non gli ha fatto nessun beneficio per quella che era la loro sete, no? E per cui ci sta, no? Però ho visto anche tante altre persone avere un beneficio molto importante. Io ne sto attraendo fin da allora un beneficio enorme e posso confermare che la promessa che lui mi fece, no? Dicendomi dammi le redini del tuo cuore, le redini del tuo cuore, non della mente, le redini del tuo cuore e ti darò una pace che non finirà mai. E io posso testimoniare che è vero, è vero. E non solo ho mantenuto quella promessa di darmi una pace che non sarebbe finita mai, perché io mi rendo conto, guardando, sentendo la mia vita, che quella pace è sempre la stessa, ma la mia comprensione, il mio apprezzamento è qualcosa che è sempre in crescita. È lì che c'è la mia gioia. Rendermi conto, apprezzare quella vita che ho sempre avuto, che è sempre stata con me, ma mi è sempre sfuggita, perché il mio, come dire, il mio senso dei valori è stato fissato in un modo troppo confuso, troppo ingenuo. Ho accettato dal gatto alla volpe dei consigli, troppo ingenuamente, ma è finito quel tempo lì. Questo tempo lì è finito. Ora c'è il tempo della semina, mititura, raccolta. È il momento dove c'è l'estate di un'esperienza. Mi rendo conto di essere entrato da ragazzo, con tutta la mia confusione, eccetera, e di non avere mai avuto la disgrazia di allontanarmi da quella pratica quotidiana di stare in contatto, che è la cosa che per una volta chiede a chiunque, no? Voglia ricevere la conoscenza. Una volta ricevute le tecniche della meditazione, che non sono quelle che fanno click, no? Però da lì si comincia, no? Da lì si comincia. Che volevo dire? Non mi ricordo, fa niente, dai. La chiudo qui perché sono convinto di essermi allungato un po'. Per cui questa settimana finisce così, con il racconto di questa esperienza, dove saluto anche Alex Lupsa, un giovane ragazzo, secondo me interessante, che ha un bel viso, eccetera, al quale vorrei affidare un ruolo nel film per bacco. Adesso lui ha già letto il soggetto. Per cui quando ritornerò dall'Inghilterra e avrò... Comincerò a lavorare con quella cosa lì, più che anche certi ruoli cominciano a prendere... Mi piace incontrare persone che secondo me possono essere persone giuste. Poi vorrei sentire anche Allegra Balbo perché dobbiamo sistemare una cosa a riguardo di Salomè, no? E ho la sensazione che parlando con lei fosse qualcosa di azzeccato, magico, posso stare fuori. E poi c'è il mio avvicinato. La mia vicina, la botteghina Progetti Sartoriali, si trasferisce, va in centro alla Ravenna, in un negozio più grande, bello, eccetera, così, che è pronto. E quando io ritornerò dall'Inghilterra... Ecco, lei è arrivata adesso. Io prenderò il suo posto fino alla fine dell'anno perché lo userò come set per... Come set per fare i lavori... Sto passando qui di gente... Per fare i lavori che mi servono per la presentazione del Monumento alla Pace che è il 21 settembre 2017. Io e la Giuse, che siamo la ghianda fondamentalmente, cercheremo di dare il nostro contributo e di presentare il nostro progetto e farlo decollare perché dopo tanti anni di preparazione e cura è giunto il momento di spiccare il culo e la stessa gara. Grazie e al prossimo live.